Pronto? Prende male in questa casa, le tasca sempre la linea! Bene, è andato via! Non ti preoccupare base, penso io, vedrai? Come vedrò le tre note giuste per i miei per qui? Te ne accorgerai voi! Ma può essere che bastano solo tre note? Ecco Renato, sì, bastano solo tre note, scusa, prendi il canno a maturio, no? Volare! Tre note! Oh oh oh! So cinque! E c'era giù! Ma in tanti servivano, servivano! Noi donati non servivano! La rovinata! Io? Già avrei messe! E poi pure modugno! Ah, ma che c'è oggi? Amarone Valpolicella classico, ponte sui scalchi o descalchi! 690 euro! Gran riserva! Quanto? 690 euro! Ma come la pensione di mio padre! Ma scusa, ma l'altra volta l'assassinario ha fatto il greghetto con Amarone? Ma ti dici niente che ti vede? Ma tanto non se ne accorge, che te frega! Chi è? Alla salute! Vai! Ragazzi! I turni di frizia della settimana! Seguite! Loredì il bagno, il Duccio, il soggiorno e il quarto, la terrazza Lina la cucina a me! Mercoledì il bagno lo fai Doardo, il soggiorno lo faccio io, la terrazza Duccio la cucina a Lina! Venerdì il bagno lo faccio io, il soggiorno è lì, la terrazza Duccio la cucina a Doardo, chiaro? Ah ah! No, no, scusa, scusa! Perché venerdì io devo fare le plazze e cucina e non ce non fa niente? Ah ah ah! E Duccio mi aveva chiesto di rimanere libero venerdì, vero Duccio? Vero! FATERIE! Io mi soggiorno, mi soggiorno! Mi soggiorno, mi soggiorno! Mi soggiorno, mi soggiorno, mi soggiorno! Mi soggiorno! Mi soggiorno, mi soggiorno! No! Facciamo che lo faccio io al posto tuo! Ma tu non dovevi uscire? Dico te lo! Ma faccio in bagno e poi riesco! Grazie Duccio! Ecco! Lo comunicate con me, Alina? Ve lo ricordate e ripeto? No! Favamo la foto! Dovevo parlare a te! No, 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 che fai! Prima fai una sorpresa a te! T'ho scritto la sigla! Davvero? Sì! E dai, io ho questa quando andrai a presentare la tua trasmissione, non potranno dirti di no! Dimmi se ti piace, sei pronta? Pronta! Che emozione! Dai! Quando senti che arrivano dei guai, un problema che non risolvi mai, quando il piatto ti sembra sempre lento, da tempo ti tormenta quel pensiero, con la testa ti senti in gran trasfono, c'hai paura del buco dello zono, se ti arrabbi che cara la benzina, perché non abito in casa in cantina, è il momento che arrivo, sono l'editina! 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 La leggende che ha domande, che ha domanda, lei risponde, perché sa che deve dire! L'editina! L'editina! Legge tutto nelle carte, indomina la tua sorte e ti farà privi! La coppia! L'editina! Non l'arriosi che paghi l'onorario, per principio, per natura, la rupa, ma la fattura, ma se c'è chi la prende, l'editina! Non so bene anche se un po' je rigugna, che ti ho piano se grugna, ma... L'editina! La fattura! Je la fa! Je la fa! Je la fa! Ahhhh! Sto finale me quindi mi Gimbeniente! She la fa! Ecco! Alice, few, four, five, six, three, six, six, seven, 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 one, two, six, six, La mia parola Che così sarà La mia parola Grazie. Grazie.